Allora Monè, perché in Liguria? Perché è Imperia dopo tante discussioni in proposito? In Liguria perché io amo la Liguria, perché la Liguria è una regione che è una best practice, è la regione a cui si guarda in maniera con molta invida degli altri territori, perché qui si è realizzato il progetto di un Centro d'Esta unito, un Centro d'Esta che dimostra nei fatti che quando si ha un programma caro e una collezione coesa, le cose succedono, governare l'83% dei territori in Liguria non è casuale, le conferme la fiducia che da ponente a levante viene data a questa giunta regionale, dimostra che questo è fare buona politica, sono in Liguria per dare seguito a quello che di buono si sta facendo, sono in un territorio che ha bisogno che a Roma vengano apportate le istanze che riguardano il territorio, dalle infrastrutture all'industria, alla gestione delle crisi nelle aree complesse e quelle meno complesse, a tutti gli strumenti che dal turismo all'agricoltura all'industria diano davvero il volano finale per fare spiccare il volo a questo territorio. Quindi anche interventi sulla tassazione, un po' un cavallo di battaglia? Assolutamente sì, la flat tax è il primo argomento del programma del Centro d'Esta Unito, insieme alla flat tax ci sono tutte le agevolazioni per le nuove assunzioni, la decontribuzione per le assunzioni dei giorni per i sei anni, sul ponente Ligure, con la regione Liguria, con le amministrazioni locali, con le categorie professionali, abbiamo già iniziato a ragionare su alcune misure pensate soltanto per questa regione, per questo territorio che ha delle specificità che a mio giudizio mi possono consentire di accedere ad agevolazioni fiscali che possono ulteriormente contribuire al rilancio del territorio.